1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Nel mio diretto troverete della papaya fresca, del lime spremuto e dello sciroppo di zucchero di passion fruit. È una macerazione fatta da me, quindi è un made home. Un ringraziamento particolare va anche alla Hanna Club, ragazzi, che è un altro personaggio. Perché nella Hanna Club, come la Pepper God, ci regala sempre questi momenti. In un periodo di crisi, perché nel mondo in questo mondo c'è crisi, ci dà la possibilità di gareggiare, ci dà la possibilità di metterci in competizione. questo poche la papaya, che strada dal tutto il suo sapore. Lo broken la papaya, che trada da tutto il suo sapore. E' una buona compaglia che trarerà tutto il suo sapore. andremo a formare questo spiattolo andremo a mettere il nostro link dell'Havana 7 il nostro prodotto principale uno dei secondo me dei rumi più importanti in Italia e di largo consumo mi raccomando ragazzi dovremmo dire anche il vero e il responsabile siamo noi e dobbiamo educare i nostri pietti nel modo di bere e quindi lo facciamo riuscire bravo Alessio